Un'anziana è stata ricoverata in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva respiratoria dell'ospedale di Piacenza dopo aver contratto la legionella. La donna, ultra settantenne, avrebbe contratto il batterio qualche giorno fa durante il periodo di ricovero in una casa di riposo. Le sue condizioni di salute sono precipitate rapidamente ed è stato disposto il trasferimento al Guglielmo da Saliceto, dove, ha spiegato il primario Cosimo Franco, vista la grave insufficienza respiratoria, è stata sottoposta a terapia antibiotica e supportata con ventilazione meccanica. Non sarebbe l'unico caso di infezione da legionella segnalato negli ultimi mesi nel Piacentino. Nei primi mesi del 2023 erano giunte all'igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria 11 segnalazioni per polmoniti da legionella, dati che si confermavano in linea con quanto avvenuto nel 2022 in cui si erano registrati 40 casi in un anno. La legionella è una malattia causata da un batterio e può presentarsi con una forma di tipo influenzale oppure dopo un periodo di incubazione come polmonite. Età avanzata, fumo di sigaretta, malattie croniche, immunodepressione possono aumentare il rischio di contrarre la malattia in forma grave. Il contagio può avvenire respirando minuscole gocce d'acqua contenenti concentrazioni elevate del batterio, diffuse nell'ambiente da docce, idromassaggi, torri di evaporazione e sistemi di condizionamento. Il batterio si moltiplica con temperatura dell'acqua tra i 25 e i 45 gradi con presenza di sedimenti, ristagni o incrostazioni nell'impianto idrico, nelle tubature, nelle docce o nei rubinetti. Si può prevenire la diffusione mantenendo l'acqua calda a temperature non inferiore ai 50 gradi nei serbatoi di accumulo e l'acqua fredda sotto i 20 gradi. Importante è poi la manutenzione e pulizia di docce e rubinetti, filtri, caldaie e altri serbatoi. L'infezione non si trasmette bevendo l'acqua.